Ciao ragazzi, allora questo è un video speciale che è stato richiesto da ricette risate in pochi minuti se non mi sbaglio, spero di aver detto bene il canale, comunque lo scrivo qua, andate a vedere questo canale perché è bravissima a fare le ricette e ringrazio al canale ricette risate in pochi minuti di avermi richiesto questo video, praticamente è un video dove vi faccio vedere le matite migliori che io uso, cioè vi consiglio ovviamente le matite migliori che io uso per chi ovviamente, perché dico sempre ovviamente non lo so, ma vabbè per chi non usa le liner ma usa le matite, ad esempio io faccio un po' un po', se devo andare a lavorare che non ho proprio voglia di truccarmi o devo lavorare e andare subito, la prima cosa che faccio prendo una matita di queste, metto la matita e il mascara, punto, questo è tra virgolette il trucco velocemente da fare quando tu sei di fretta e che dici cavolo devo scappare, andare a lavorare, non c'ho voglia di truccarmi, stare lì e mettermi di tutto sulla faccia, allora prendi e usi queste cose qua, per cui ovviamente sì, sono tante ma non ve le mostro tutte, vi dico solo quelle migliori per me che scrivono bene e che diciamo sono meglio a usarle, in poche parole, per cui questo è un video speciale iniziamo perché non voglio farlo durare tanto, siccome registro alla sera non so se si vede bene, avendo comprato il cavalletto nuovo e il telefono nuovo spero che riuscite a vedere bene, comunque ve le swatcho anche, iniziamo da questi due, allora la marca di queste due matite è il Glossip, spero che si vede, come vedete ne ho un casino di matette di Glossip, anche quelle non utilizzate e praticamente ancora con la plastica sopra, per cui non so se si vede ma praticamente non sono aperte certi, per cui vi faccio vedere quelle già aperte. con questa marca qui io mi trovo molto bene, sono migliori, per cui potrei consigliarvele, l'unica cosa è che essendo che non c'è più questo marchio da me, devo praticamente comprarlo dal sito e siccome non ho voglia di comprare dal sito questo marchio, ho cambiato marchio che adesso vi farò vedere, comunque questa è la matita che ho usato, questo è il colore adesso non so se si vede comunque, la scrivenza è buona, a me piacciono queste matite qua, poi specialmente se devo fare un trucco veloce, invece questa è fatta diciamo verde, spero che si vede, ok per cui per chi ce l'ha ancora, vi consiglio questa marca qua che è il Glossip, poi vi consiglio il marchio della Sephora, ripeto io uso tutti i marchi per provarli tutti, la Sephora, anche questa qua dipende però dalle matite, ad esempio questa qua è per waterproof, io la uso quando vado in piscina o quando vado al mare, lo so che non si dovrebbe ma io mi trucco perché senza trucco io non ci posso stare, per cui praticamente preferisco mettermi almeno la matita e il mascara, per cui questa che è waterproof della Sephora, è ottima, questa qua la adoro, per cui se volete, vabbè adesso no, ah no, black 01, adesso non so se si vede, cellulare, no, direi che ancora devo capire come, vabbè lasciamo perdere, e questa qui che è tipo sottile, questa è la 09 Glitter Black, questa è quella un po' sottile, che solo una passata, c'è una scrivenza assurda, io queste qua le adoro, le adoro, per cui Sephora in certe matite sono le migliori, per cui vi dico che quelle sono meglio, poi passiamo a questo perché quell'altra è un mascara, sempre da Glossip perché ho fatto la collezione praticamente, questa qua è viola, poi c'ho questa, se arrivo eh, questa è qua sempre da Glossip, io mi trovavo bene ma da quando hanno chiuso il negozio, che è questa qua, ve la consiglio, se volete prendere queste matite acquistatele sul sito, su Glossip, poi anche la Kiko, le matite della Kiko sono ottime, tipo questa qua, io non voglio finirla perché non so se riesco poi a trovarla ed è spettacolare questa qua, è spettacolare, poi la girate, fate, cioè solo che finiscono in due secondi, però questa è la 03 ed è spettacolare, ve le consiglio queste, non ne ho tante, ma la maggior parte faccio la collezione, anzi dovrei comprarle, però lasciamo perdere, poi ho questa qua che uso spesso, questa è marrone, no non è marrone, vabbè, è fatta così e sinceramente, questo è sempre da Glossip ed è anche questa è quella che uso di più sinceramente, che se non sbaglio dovrebbe essere, no no, questa è un'altra nera che ho finito, non ne ho più quelle nere, io sono una che nei miei occhi sinceramente va bene il nero, per cui comunque questa è con i brillantini e ormai l'ho quasi finita, però è bella perché c'ha i brillantini, adesso non so se si vede, ma ha i brillantini ed è molto bella, e questa qua mi sembra che l'avevo fatta vedere, poi ho quelle piccole che ovviamente devo finire, come vedete, sono praticamente uguali, però giustamente le devo finire, invece queste qua della bottega verde, sinceramente non mi ispirano sia perché, non lo so, cioè, sì sono buone, questo è tipo verde, questo qua è buona, ma tutta occhi intensa, con cera, vitamina B, anche queste sono buone, non è che fanno, diciamo, cagare in poche parole, sono buone, però non lo so, non mi convince tanto, infatti ne ho solo una della bottega verde, e poi, vabbè, ho certi marchi, ad esempio sempre la Kiko, che è top, adesso non so, ho furia di sbocciarvele tutte, c'è questo, che non so se si vede, più o meno, che anche questa è bella, ma sui miei occhi non si vedono, allora giustamente io preferisco il nero perché sui miei occhi sta bene solo il nero, per farvi capire, comunque, le altre matite sono solo marchi che, tipo cinesi, tipo questa cinese, ok, che non dovrei mettere il trucco cinese, ma io sono una che prova sempre tutto, e ad esempio questa è cinese, l'ho pagata un euro, è dura, ma sinceramente, questo è il colore, ma sinceramente, non è ottima, ma ci può stare, ad esempio questa è la marca, però non ve la consiglio, questa qua, sempre cinese ho questa, poi non mi ricordo, vabbè, questo eyeliner non c'entra niente, non ve lo faccio vedere perché stiamo parlando di matite, e siccome non c'è la luce, ho preso 10.000 luci, ma non c'è la luce, vabbè, questo è spettacolare, ma sui miei occhi non so se l'avevo provato l'altra volta, però è molto bello, è questo qua, adesso ovviamente non si vede perché non c'è la luce decente, ma giuro che poi comprerò la luce come le youtuber, e niente, queste sono le mie matite, che ovviamente quelle sono chiuse, inutile che ve le faccio vedere, l'unico, ripeto, l'uniche matite che io uso sono Glossip Sephora e Kiko, per cui per il momento vi potrei consigliare le matite di Kiko e le matite di Glossip, perché ovviamente non si trucca, ad esempio, esagerato, e queste sono state, poi se per caso siete interessate, vi farò vedere anche le eyeliner, che non ne ho tanti, ma forse ve le ho già fatte vedere, non mi ricordo, comunque queste qui sono le mie matite, che ovviamente dovrei anche comprare il bicchierino come questo, ma fa niente, sono le matite che ho, in poche parole ve le ho fatte vedere velocemente, questi sono i colori, che saranno uguali, ma ce ne saranno altri, però per stringere in questo video, vi consiglio le matite che sono veramente ottime, che sto provando io e mi trovo bene, le matite della Kiko, le matite della Sephora, però dipende che matite prendete, perché prima dovete testarli sul braccio, perché certe matite appena tu lo metti sull'occhio, adesso non so come spiegarlo, ma non si, cioè non sono come queste, metti una passata e sono già su, adesso non mi vengono le parole, però vi spiegherò poi nel video dei prodotti finiti, che ci sarà una matita quasi finita, che non ho voluto finire, perché mi sono trovata male, che era quella della Sephora. Va bene, detto questo, spero che il video è giusto, cioè in senso che è quello che volevi che io facevo, almeno, non lo so, spero che è giusto, fammi sapere sotto nel video se, se non so, ti piace questo video, e anche per il consiglio se ti è stato utile oppure no. Comunque, io consiglio matita e eyeliner per fare un trucco velocemente, specialmente per quelli che non vogliono truccarsi, oppure anche quelli che devono andare a scuola, io quando andavo a scuola, matita, eyeliner, se, matita, mascara e via, anche perché ai miei tempi non ci si truccava così come, io dico pagliaci, ma non è, è ovviamente per ridere, però all'inizio io non mi truccavo così, mi truccavo molto leggera, e invece adesso, avendo 10.000 trucchi, giustamente sto cercando di esagerare un pochettino, però. Così, niente, grazie per questa richiesta di video, fammi sapere se sono stata utile, e se per caso, non so, non ho detto qualcosa, fammi sapere, perché io le richieste appena posso le faccio tutte di questi video qua sul canale, per cui se volete qualche richiesta dei video, scrivetelo sotto in questo video, che io cercherò di farle. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, perché parlo anche fin troppo. Niente, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace e un commentino qua sotto, in più seguitemi su Instagram, vi aspetto. Ciao e al prossimo video!